Insieme a Delia Cicerchi, a grande protagonista anche a giugno, tutto quello che poteva accadere che è accaduto a giugno, perché i cavalli, poi tu che è stato male. Ma sì, sicuramente la giustra di giugno non è stata la più facile che abbia mai corso, ecco, mai è facile, a giugno 2016 è stato particolarmente difficile, un po' per la facciana dei cavalli, un po' per la malattia, saltare le prove, insomma è stato tutto più difficile, però è andata bene, magari ho sempre sostenuto che il gran merito è stato poi di tutta la squadra nel cercare di unirsi ancora di più e arrivare alla competizione al meglio facendo squadra. Cioè, guarda, a sperare che ci sia anche più sportività, soprattutto tra i figuranti. Io spero di sì, perché comunque sia, l'abbiamo detto tante volte, la giustra è bello, è bello vincere, è bello vincere per merito proprio, perché nel momento in cui uno sbaglia è giusto l'errore e uno se ne deve prendere le conseguenze, ma soprattutto i cavalli, cioè i cavalli non vengono qui perché sono loro che decidono di venire qua, sono tra virgolette vittime di noi che vogliamo fare questa competizione. Quindi secondo me non è giusto mai cercare il disturbo sul cavallo, però speriamo un attimino che la popolazione aretina e chi viene a vedere la giustra, i figuranti, si riescano un attimino a convincere di questo.